Eccoci qui, quasi pronti per il Natale, guardate che carini che sono, dei bellissimi sacchettini 4 tipologie diverse, Fede cosa stai facendo tu? Io mi sto divertendo a chiudere dei sacchettini per il primo cliente che ci ha chiesto la consegna per la prossima settimana e quindi stiamo finendo di preparargli la consegna. Il sacchetto l'abbiamo già riempito di lavanda essiccata e adesso stiamo finendo di fare il confezionamento, in questo caso su questo sacchettino visto che il lacetto non è troppo lungo stiamo facendo un doppio nodo, altrimenti ci facciamo il fioc, il pupazzo di neve, questo è il pupazzo, poi dopo abbiamo il nostro amico l'alce, poi dopo l'alce abbiamo l'orsetto, l'ultimo? Non poteva che essere lui, Babbo Natale, carini vero? Domani li spediamo. Ciao! Ciao ciao!